giovedì mattina e come sempre qua sul mio canale amiche e amici conoscenti e non conoscenti familiare non familiare insomma chi è qui davanti al video ad ascoltarmi ea guardarmi bentornate e bentornati stamani giovedì mattina come dicevo video sussurare e quindi andiamo a vedere un po come è la j1 2024 probabilmente questa è la prima parte bisogna vedere se appunto avrò il tempo di costruire per domani una seconda parte altrimenti la seconda parte andrà la settimana prossima insieme ma l'analisi di che one quindi settimana prossima video di analisi mentre domani uscirà un video su io vi ricordo di cliccare sulla campanella se volete continuare ad essere aggiornati su video che escono qui sul canale andare sul gruppo telegram dove ci sono un sacco di ragazzi sarò un sacco di cose sussurare e poi eventualmente se siete veramente così interessati ad avere news in anteprima su asia iscrivetevi al mio patreon che curo sempre con grande dovizia di particolari e che dire di più andiamoci a vedere intanto com'è composta la j1 2024 aspettate un attimo che la cerco allora eccola qua andiamo a vedere insomma andiamo ovviamente in ordine alfabetico alberi ex nigata vispa fukuoka serezo osaka con sadole sapporo gamba osaka giubilo iwata o giubilo iguata probabilmente kashi mantres kashi waraiso kawasaki frontale kiyoto sanga machita zelvia nagoya grampus agantosu san frecci roshima shonan bel mare fc tokyo tokyo verdi urawa rezza visse kobe yokoma marino su una delle cose interessanti e che torna il derby di tokyo dopo molti anni ho fatto come dicevo un'analisi molto molto sintetica di quelli che possono essere le squadre che lottano secondo me per competere per le prime posizioni ne ho messe sette e le altre secondo me si ritroveranno a competere per posizioni più basse nella classifica e magari appunto le analizzerò se ho voglia ripeto a essere riesco per domani non credo per domani ma insomma di farlo per la settimana prossima per quanto riguarda la settimana prossima ok detto ciò iniziamo iniziamo dai campioni in carica il visse kobe eccolo qua questa è la formazione ovviamente schierata nell'ultima di campionato dell'anno scorso ma il visse kobe è già sceso in campo nella supercoppa giapponese perdendo contro il kawasaki frontale con un error raccio della difesa che ha coinvolto principalmente il buon da yama e kawa ecco qua andiamoci a vedere risultati così ci vediamo anche qual è stata la prima formazione del visse kobe possiamo anche vederci però quella quella del frontale lasciamo la perdere perché poi la affrontiamo guardando quelle di champions sul sonale data perché questa è la formazione in cui c'era un sacco di turnover quindi il visse lo ha giocato con maekawa sakai yamakawa tulare azuse o giara come mediano yamaguchi e ide a centrocampo patrick e sasaki a supporto di osako in questa formazione mancava muto perché era infortunata la caviglia ma è rientrato in allenamento proprio oggi tra l'altro notizia di giovedì 22 febbraio e quindi patrick dovrebbe lasciargli il posto nella prima di campionato direi che la formazione titolare sarà più o meno questa con qualche dubbio ad esempio può essere kikuchi al posto di yamakawa nel momento in cui kikuchi dovesse tornare in forma per il resto credo che più o meno siamo lì ecco cioè non ci sono stati grandi cambiamenti da parte del visse in sede di campagna acquisti la squadra più o meno la stessa sanno benissimo ovviamente che gli avversari faranno di tutto per cercare di appunto togliergli il trono l'unica cosa interessante è che finalmente hanno un secondo portiere perché è arrivato comunque obi powell obina dai marinos però insomma non credo proprio che prenderà il posto del buon maekawa e onestamente andrà capito che cosa succederà anche a yusuke ideguchi che torna in giappone dopo la parentesi non proprio positiva al al celtic che che probabilmente potrebbe trovare spazio insomma probabilmente proprio al posto di ide andiamoci a vedere anche chi è entrato ricordiamo anche che c'è miyashiro che è arrivato dal frontale dopo un anno un po così e così infatti lo vedete che ideguchi ha comunque sostituito oghiara mentre al posto di ide è entrato miyashiro diciamo che quest'anno ci sono un po più di come dire un po più di frecce nell'arco dell'allenatore del del vissel questo è il cambio classico che viene fatto tutti gli anni quindi chi ha tutte le quasi tutte le partite chi ha azuse stia tranquillo l'unico problema di azuse che viene quasi sempre sostituito andiamoci a vedere anche magari un po su sorare data direttamente un po di voti dell'anno scorso lo vedete il migliore comunque sempre usato con 61 l'anno scorso veramente ha fatto non bene di più andiamo a vedere eccolo qua 21 gol 30 partite 8 assist favoloso veramente favoloso vedete anche dei voti veramente eccezionale campionato pazzesco un altro molto apprezzabile ovviamente azuse io ce l'avevo l'anno scorso eccolo qua lo vedete ha fatto 8 assist è un gol e comunque garantisce sempre voti di livello il prezzo anche per me assolutamente buono 4 e 14 e 42 50 è rara inspiegabile per me che uno come azuse costi realmente così poco è vero che c'è la questione in season of season ancora da capire se le carte giappone usciranno subito quindi quelle vecchie che ora sono in vendita probabilmente potrebbero davvero subire un arresto micidiale qui lo vedete più o meno è sempre è sempre lo stesso non ho guardato usaco andiamo a vedere tanto per eccolo qua vedete più o meno anche questo non è che stia proprio benissimo 21 euro comunque per uno così come lui non ce ne sono in vendita rare questo è un po quadra successiva che andiamo a vedere sono quella che secondo me è diretta concorrente che però su cui ho alcuni dubbi che dipendono da due questioni la prima è popping in porta che insomma deve confermarsi in j1 e questo insomma speriamo tutti che accada ovviamente ed anche perché dietro i marinos hanno i cura come dodicesimo non proprio una certezza e poi la panchina guidata da henry chiuwella la prima esperienza dal natore professionista dopo aver fatto alcune ad alto livello almeno alcune esperienze insomma in divisioni minori in inghilterra destra è stato il secondo di poste coglu al celtic il grandissimo ex cacciatore australiano dovrà confermarsi insomma è confermare la grande tradizione degli allenatori australiani di questi ultimi anni che vede appunto poste coglu poi muscat e ora vediamo se anche lui riuscirà a portarsi a casa un titolo più o meno la scuola dovrebbe essere questa con poche differenze se non il fatto che qui a destra dovrebbe giocare matsubara almeno fino al rientro di coi che quindi si è spostato kato anche lui uno dei nuovi acquisti molto 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 interessante giocherà da terzino sinistro per quanto ne sappiamo insomma e dovrebbe essere tra l'altro il titolare senza tanti problemi al centro della difesa penso che appunto saranno kamijima ed eduardo i due difensori centrali poi abbiamo almeno finché non rientrerà tanaka ma anche lì è da vedere così come a destra sarà matsubara finché non rientra coi che ma non si capisce onestamente che cosa abbia coi che poi abbiamo i due centrali centrocampo watanabe e kida e davanti mattei a matteus elber anderson lopez con anta e che probabilmente potrebbe anche gestirsela con a mano a mano di rientro dalla corea ai marinos dopo due anni in prestito prima luce e poi il jean book e insomma dal mio punto di vista dovrebbe acquisire spazio qui ci potrebbe essere anche nagato è che poi prende il suo spazio però bisogna vedere kato secondo me ci puntano decisamente molto sulla fascia sinistra ovviamente la difesa poi come al solito ci sono i calciatori come mizunuma che potrebbero trovare spazio però è tutto secondo me una questione poi da vedere in corso d'opera anche lo stesso murakami piuttosto che yamane al centro della difesa ma insomma tutto tutto da vedere andiamo a vedere soprattutto i difensori centri difensore ve li faccio vedere rapidamente vedete watanabe eduardo secondo me potrebbero trovare molto spazio watanabe lo andiamo a vedere viene dall'albirex ha fatto veramente una una grandissima stagione l'anno scorso e vedete ha giocato dal left back in realtà potrebbe giocare benissimo da centrale quindi con kamijima potrebbe alternarsi alternarsi molto questi dubbi su marinos dopo i marinos voglio fare un video non troppo lungo andiamo a vedere il san frecce san frecce che sostanzialmente non ha cambiato praticamente niente c'è schibe sempre sulla panchina sono rimasti tutti i giocatori più importanti quindi la cosa interessantissima è che se ne è andato ben califa che è andato alla vispa ma insomma la sua sostituzione è stata secondo me di alto livello cioè san frecce ci è andato a guadagnare con l'arrivo di yuki o asci dallo shonan che andiamo a vedere l'anno scorso vi ricordate asci partì con una tripletta qui non si vede poi si ruppe dopo qualche partita è rientrato e comunque ha fatto dieci gol in venti partite con due assist e ha contribuito alla solvezza dello shonan certo deve confermarsi ad alto livello ma rispetto ai daglas vieira ai suo tirio allo stesso ben califa che in questi anni hanno guidato l'attacco del san frecce secondo me è una grande salto di qualità vedete il costo costo secondo me ancora contenuto non ho guardato onestamente la tendenza dei prezzi ma vedete l'ho preso qualche giorno fa dopo il reset e il prezzo è più più o meno sempre quello in limite da andiamoci a vedere anche la rara siamo più o meno lì ovviamente tutti i prezzi ades sono un po cresciuti a partire da gennaio questo è evidente sono curioso di vedere che cosa succede dei prezzi dopo la prima giornata e dopo questa prima giornata di campionato se si muovono subito magari si muovono fra un po con l'uscita anche delle carte nuove cioè come si comporta off season in season sono un po curioso di capire che succede la cosa ovviamente interessante se uno è curioso o desideroso soprattutto di comprarsi carte del san frecce è ovviamente la super difesa composta anche quest'anno da usaco sciotani arachi e sasaki con sasaki che è il super top difensore ma anche arachi capitano coraggioso che comunque fa sempre grandi voti interessante a centrocampo kawamura direi e davanti qua secondo me dipende molto da cosa succederà perché caso lo do per certo titolare mitsuta potrebbe giocare qua a centrocampo con kawamura e qua potrebbe giocare marcos junior anche perché hanno marcos junior purtroppo l'idolo delle folle di qualche tempo fa nozuda non sembra più essere titolare san frecce che quest'anno gioca secondo me per il titolo altra squadra decisamente interessante che bisogna vedere se giocherà per il titolo ma insomma why not è ovviamente sono ovviamente gli urawa rets urawa rets che hanno cambiato l'allenatore scorza è andato via è arrivato onmo aspettate che vado a vedere perché non voglio sbagliare per mattias ogmo dalla scandinavia e direi che loro ce andiamo a vedere prima su transfer mart direi che comunque la difesa è più o meno solida la stessa nishikawa si fa un altro anno da titolare al centro giocheranno sempre scholtz e vibrate mentre a destra giocherà sakai a sinistra oata va visto naturalmente se sakai regge da un punto di vista fisico altrimenti è arrivato ishiara dallo shonan e vedete come altri difensori sono arrivati in ue e stato dal gamba sato e in ue invece dal kyoto sanga a centrocampo e dove c'è stata un po più di rivoluzione perché comunque sono arrivati nakajima takeda watanabe gustafson soprattutto dalla stessa squadra da cui viene ogmo scuola svedese la ken dovrebbe essere la che andiamo a controllare per non dire amenità vediamo al volo se insomma trasfermati cipeda è la ken si bk park e e sono arrivati appunto soprattutto davanti quindi andiamo poi a vedere come giocheranno su me giocherò giocheranno di nuovo col 4 2 3 1 molto molto probabile anche perché hanno un sacco veramente un sacco di esterni e quindi difficile però potrebbe giocare anche col 4 3 3 eh quindi diciamo che visti anche gli arrivi in attacco perché è arrivato matsuo è arrivato abe e scusatemi è arrivato sul bakken è arrivato maeda e soprattutto è arrivato tiago santana davanti insomma bella squadra sono e giocheranno con nishikawa sakai a destra o i bratene sciolza al centro con uata a sinistra poi a centrocampo io do per titolari al momento iwao e ito però insomma gustafson visto che lo porta l'allenatore troverà spazio poi se giocano col 4 2 3 1 vanno con sol bakken a destra al centro secondo me c'è una bella lotta fra pania e nakajima e a sinistra bisogna vedere se giocheranno coizumi o matsuo davanti ovviamente tiago santana se vanno di 4 3 3 mi immagino che ito iwao e gustafson giochino insieme davanti a quel punto c'è un imbarazzo da scelta credo che matsuo con sechine se la giocheranno di più è uguale coizumi matsuo e sechine saranno quelle che se la giocano di più a sinistra con io presumo che alla fine essendo tornato matsuo troverà molto spazio però è tutto ovviamente in divenire gli urawa sono un po complessi da vedere naturalmente i top rimangono rimane scholtz che batte i rigori e comunque vedete nishikawa è un buon portiere in questo momento stare con il cambio star esastar non tanto però finché dura la capped è comunque un'ottima scelta squadra successiva i cerezo direi andiamo a vedere il cerezo cerezo che andiamo va mi metto anche di qua nel frattempo io sto ottenendo ovviamente le rose che ho preparato per il patreon quindi direi giocano sempre col 4 4 2 con kim jin yon in porta yang han ben di rincalzo qui vedete 4 2 3 1 perché nell'ultima parte di campionato l'hanno un po alternato quindi potrebbero anche andare di 4 2 3 1 poi maekuma a destra mi immagino shindo toriumi e noborizzato che se la giocherà con funaki funaki che parte davanti ma insomma l'arrivo di noborizzato non è da proprio tenere in secondo piano centro campo al centro secondo me giocheranno kagawa e okuno anche se è arrivato questo vittor bueno è da vedere a destra credo che potrebbe trovare molto spazio lucas fernandez ottimo acquisto dal comsadole mentre a sinistra capisciaba penso che sia il titolare davanti credo che giocheranno come al solito leo seara e appunto a destra ci potrebbero essere i nuovi arrivi watanabe o vittor bueno con anche che ne so wejo che potrebbe giocare da seconda punta come ha giocato l'anno scorso l'anno scorso ha giocato varie volte da seconda punta lo vedete però ecco credo che alla fine andranno andranno così questi sono i top average dei calciatori insomma le all around sono anche questi interessanti se dovessi consigliare un giocatore consigliare avrei consigliato per la capped come mi sembra di aver fatto anche in qualche video leo seara qui se vogliamo scegliere una star monastar probabilmente kagawa e kim jing yon in porta arriviamo poi a left si tokyo eccolo qua si tokyo che ha cambiato anche questo per questo in questo caso conviene andarci a vedere la rosa direttamente sul transfer mart perché conviene farlo insomma altrimenti rischiamo di essere no focalizzarci su giocatori che poi non ci sono nemmeno più lo vedete è tornato guatano però il titolare sarà brandon nozawa mi credo con grande grande serenità la cosa pazzesca è il ritorno in giappone di keita endo dall'union e quindi chiedo che keita endo troverà tanto spazio e anche l'acquisto secondo me di oga shiwa davanti comunque che potrebbe dare fiato al buon al buon di agolivera rimetto un attimo il tokyo così ci intendiamo credo che appunto il porta giocheranno zawa a destra ci sarà comunque un'alternanza fra nagatomo e shirai centro della difesa penso per trevisan e morishige con però kimoto sempre pronto a entrare a sinistra penso che in bangunagande sarà lui il titolare sempre con nagatomo diri in terzo nel 4 2 3 1 che dovrebbe essere confermato mi immagino poi che finalmente keiko ezumi il baffo più amato dalla comunità italiana tornerà fisso titolare ricordiamo che può giocare eventualmente anche da attenzino destro e qua credo che andrà a giocare alla fine co harakawa o co mentre nei tre dietro a di agolivera dovrebbero giocare nakagawa matsuki e endo o già già si già già silva il nuovo brasiliano arrivato però insomma presumo che ando troverà tanto 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 spazio davanti di agolivera appunto con ogashiwa che potrebbe insomma farlo respirare ultima squadra che vi propongo fra quelle che secondo me lotteranno per il titolo e qualche posizione in champions oppure potrebbero anche fare il loro meglio nella coppa dell'imperatore nella levi ancappa ma noi questo ci interessa fino a leva in capo ma questo ci interessa fino a un certo punto ma insomma il kawasaki frontale cos'è il frontale eliminato dalla dalla champions nel doppio confronto contro cinese dello shandong lunang e malissimo hanno vinto 3 a 2 laggiù i giapponesi per poi perdere 4 a 2 in casa una prestazione orribile soprattutto da un punto di vista difensivo e il problema fisico avuto da jaziel insomma ha creato più 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 problemi del previsto scusate l'assonanza e onestamente non hanno mai compensato l'addio di taniguchi che ricordiamolo un paio di stagioni fa due stagioni fa se ne è andato a giocare nella penisola araba la formazione credo che sarà più o meno quella che state vedendo non così sarà un 4 3 3 più classico secondo me comunque con riong giunson riong in porta miur sasaki o minami maruyama e miura miura ottimo veramente stateci attenti quando usciranno le carte maruyama non credo giocherà jaziel quindi jaziel o minami al centro centrocampo penso che sarà più o meno questo cioè tachibanada wakizaka yamamoto con yamamoto che potrà alternarsi ogni tanto con secco davanti e harrison affiancato da marcigno e yenaga se gavo potrebbe trovare un po di spazio non credo che lo troverà tantissimo gomis anche perché ora non c'è più la coppa vediamo vediamo che succede ci sarà ovviamente la nuova champions tutta da vedere quindi servirà comunque la panchina lunga ricordiamo anche che a sinistra rientra il giovane miaghi che secondo me un po di spazio comunque potrà trovare hanno preso questo zero ricardo come mediano brasiliano da vedere questo altro patrick veron a centrocampo a destra in difesa ovviamente ci sarà da capire che succederà saivan vermesken devo vedere come si legge allora frontale come scritto e così si vede perché l'ho scritto ma è troppo piccolo non leggo bene allora eccolo qua saivan vermesken ok cavolo aciderba viene dal neck dalla redivisie difficile secondo me che non trovi poi spazio per tutta la stagione e che sia costretto sasaki a giocare a destra per dare spazio a miura insomma situazione complessa e in evoluzione grande evoluzione torniamo di qua sono un po al buio vediamo di darmi un po di luce per questo gran finale se vi è piaciuto il video se avete dei commenti da fare ricordatevi di lasciarli qui sotto se vi è piaciuto io vi chiederei anche di cliccare sulla campanella in maniera tale aspettate che mi do un po di luce in maniera tale da essere aggiornati sempre sui nuovi video che usciranno qua sul canale del darione e ricordatevi il telegram dato il patrion è detto show buona j league a tutte e ciao 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 ciao